Lavori conclusi, rimossi in New Jersey e ripulita la strada. Dopo quasi un anno è stata riaperta via 27 Maggio, conosciuta anche come Valfresca. La strada torna finalmente percorribile dagli automobilisti. Tanta infatti la rabbia e l'esasperazione di cittadini e residenti per il disagio provocato dalla chiusura della strada, che per molti comaschi rappresenta un collegamento strategico tra Sanfermo della Battaglia e Como, utilizzata anche come strada alternativa alla via Nino Bixio. Nei giorni scorsi a promettere la riapertura della strada entro la Pasqua era stato l'assessore alla viabilità di Palazzo Cernezzi, Vincenzo Bella. La Valfresca avrebbe dovuto riaprire in mattinata, ma le operazioni di pulizia hanno fatto slittare di qualche ora il via libera alle auto e la strada è tornata transitabile nel pomeriggio, ha detto Bella. Dopo un lunghissimo botte a risposta tra amministrazione e privati, lo scorso 27 marzo è iniziato il cantiere per la messa in sicurezza della parete rocciosa dopo i due smottamenti che si sono verificati nel mese di maggio dello scorso anno. Proprio i tempi lunghi dell'intervento di messa in sicurezza hanno fatto in modo che la Valfresca non rientrasse nel percorso della tappa comasca del Giro d'Italia.